Se ami il vino avrai sicuramente sentito parlare di fermentazione malolattica, un nome che non si può sentire per un processo molto importante. Intanto la fermentazione malolattica non sempre avviene o deve essere avviata. Infatti per fortuna loro alcuni vini hanno condizioni di acidità e mineralità che sono tratti distintivi e quindi non devono essere sottoposti a questa cosa strana. Ma quindi cos'è questa fantomatica fermentazione malolattica? Si sa che dopo la pigiatura delle uve avviene la fermentazione alcolica o primaria e in questa fase gli zuccheri presenti nelle uve vengono trasformati in alcol e anidride carbonica, il tutto grazie alla presenza dei lieviti. Dopo questa prima fase il vino è particolarmente delicato perché può subire degenerazioni dovuta alla presenza di batteri nocivi e proprio per bloccare questo pericolo è bene avviare la fermentazione secondaria, appunto conosciuta come fermentazione malolattica. Si tratta di un processo enzimatico attraverso il quale l'acido malico viene trasformato in acido lattico e l'acidità totale del vino si abbassa quindi aumenta il pH. Questo processo è utilizzato prevalentemente per i vini rossi o per alcuni bianchi che sono sottoposti a importanti procedimenti di affinamento in barrique. La fermentazione malolattica è dovuta alle attività dei batteri naturalmente presenti nel mosto che vengono riattivati dopo la fermentazione primaria. Affinché avvenga questa riattivazione è necessario che la temperatura sia mantenuta costante tra i 18 e i 20 gradi e non deve superare mai i 22 gradi. Il pH del vino deve invece essere compreso tra un valore di 3,4 e 4 quindi bisogna che i vini non siano eccessivamente acidi. Deve inoltre essere presente una bassa percentuale di anidride solforosa che non deve superare i 5 mg per litro mentre l'alcol etilico deve essere inferiore ai 15 gradi. La presenza di queste condizioni può essere in un certo senso favorita infatti nel caso in cui non si presentino le condizioni ideali ci vengono in aiuto i batteri lattici da aggiungere al vino dopo la fermentazione primaria. Oppure si può aggiungere al vino che non avvia questo procedimento di conversione dell'altro vino che è già in fermentazione malolattica ma i batteri aggiunti devono essere già attivi. Se il problema è invece la temperatura si agisce su questa portando i locali in cui il vino è conservato a una temperatura adeguata. Se la fermentazione malolattica è attiva si nota che la superficie del liquido è leggermente increspata e caratterizzata dalle presenze di bollicine. Queste altro non sono che risultato della trasformazione di acido malico in lattico durante il quale si libera anidride carbonica. Per ottenere un buon vino occorre ricordare che al termine della fermentazione malolattica è bene non abbassare la guardia. Infatti possono esserci altri batteri brutti e cattivi che attaccano il vino danneggiando zuccheri, glicerolo e acido tartarico portando il vino ad assumere sentori sgradevoli. Per evitare questo si deve cercare comunque di stabilizzare ulteriormente il vino. La fermentazione malolattica è importante quando si vogliono ottenere dei vini strutturati dal sapore persistente ma morbido e piacevole. Solitamente i toni più acidi come quelli erbacei dopo la fermentazione secondaria si trasformano in toni di caramello, vaniglia e spezie. La riduzione dell'acidità totale del vino che consegue la fermentazione malolattica consente anche di conservare il vino molto più a lungo. Proprio per questo tale fase è essenziale per i vini che devono invecchiare a lungo. Due cose mi vengono in mente ora. A sono sicuro che da oggi guarderete la fermentazione malolattica con occhi diversi. E B sono sicuro che da oggi la fermentazione malolattica sarà simpatica proprio a tutti.